Prima partita in Serie D fra le mure amiche, una gara che scrive la storia del Duotorri, che festeggia i suoi 40 anni, dove tutto si è preparato per dare ed offrire il meglio ai tantissimi tifosi presenti sulle giornate, circa 150 di matrice ospite. Una festa rovinata dalle decisioni dell'arbitro, che ha perso o meglio non è mai entrato in partita e quando lo ha fatto è stato per estrarre cartellini gialli o per prendere decisioni alquanto dubbia, come quelle di assegnare un rigore che non c'era alla compagine ospite. Una gara che ai punti, soprattutto nel primo tempo, era da segnare ai ragazzi di Alacqua, che ci hanno messo animo e corpo, per non perdere o meglio per vincere anche la gara, anche se forse qualche pedina a centrocampo ed in fase offensiva prima o poi doveva arrivare. Per la cronaca si parte al sesto con un grosso tiro di Lordi, che colpisce la traversa alle spalle di Didio. Al quattordicesimo, splendida azione di Venuti, che dal limite spara un bolide nelle mani di De Luca. Al diciottesimo, De Rosa ci prova dal limite, con la palla che finisce fuori misura, mentre al ventitresimo, Palumbo, tocca con le mani la palla in piena aria, ma l'arbitro non concede il rigore. Al ventinovesimo, punizione dal limite di Guido, appena sopra l'incrocio dei pali, ed al trentaduesimo ancora un buon tentativo di Venuti dal limite, con la sfera che arriva nelle braccia del portiere. Al trentacinquesimo, cross di Guido, è incornata di Alizi, che da buona posizione manca clamorosamente il gol. Al trentasesimo, botta dal limite di De Rosa, con la sfera che passa vicinissima alla porta di Didio. Nella ripresa, al quarantasettesimo, il neoentrato Gabungo si rende subito pericoloso, calciando da buona posizione sull'esterno della rete. Al quarantottesimo, ci prova ancora De Rosa e Didio risponde alla grande. Al quarantanovesimo, Venuti, su passaggio di Carrello, spedisce la palla fuori nel tentativo di crossarla, mentre al cinquantaduesimo, dal limite, si accende a bene Butera, ma calcia fuori dallo specchio della porta. Al cinquantacinquesimo, cross splendido di Guido, per la testa di Alizi, che si vede tolto il pallone all'ultimo istante da una manata di De Luca. Al cinquantasettesimo, il mediocre Fischietto Cesenate assegna un rigore molto dubbio, per un presunto tocco di mano o spinta di Tricamo. Che viene realizzato da De Rosa. Lo stesso giocatore fa il bis al sessantaduesimo, con una perla messa nell'angolino. Il due torri reagisce bene, ed al sessantacinquesimo c'è un tentativo di testa di Alizi. Al sessantasettesimo arriva un euro-gol, messo a segno da Librizi, che dalla distanza piazza la sfera all'incrocio dei pali. Si cerca il pareggio al settantquattresimo, gran tiro in diagonale di Venuti, e al settantacinquesimo dal limite con la botta di pallone nelle braccia del portiere del Cavese. Al settantasesimo viene fermato Guido, per un presunto fuorigioco inesistente. Il finale porta altre occasioni da rete, ma il risultato non cambia. E per il due torri è ancora una giornata amara da digerire al più presto, dato che già da domenica ci sono i cugini dell'Orlandino.